Riunione operativa del presidente della regione Luciano D'Alfonso presso l'ospedale clinicizzato Sant'Annunziata di Chieti per parlare delle problematiche e delle criticità riguardante la stabilità dei padiglioni CF del nosocomio Teatino. Il governatore incontrato presso la sede della direzione generale, il manager della ASLE di Chieti Lanciano Vasto, Francesco Zavattaro e i tecnici della regione della stessa ASLE Teatina. I due plessi sotto esame sono composti da due stabili di 10 piani ognuno e misurano 14.000 metri quadrati. In totale l'intera cittadella ospedaliera presenta una estensione di oltre 53.000 metri quadrati, da non escludere il ricorso a una nuova struttura ospedaliera. Sì, alla luce di ciò che è emerso, noi siamo tenuti a trovare una soluzione che sia una soluzione che funzioni, che non abbia implicazioni di ulteriori complessità. I tecnici convocati, e sono tutti i tecnici di cui dispone la regione in materia sia di lavori pubblici che di edilizia sanitaria, hanno rappresentato come vada realizzata una soluzione capiente all'esterno che consenta anche il trasferimento e che non determini la sorpresa di ulteriore complessità. Quello che è certo è che qui c'è un problema impegnativo del quale prendere atto e reagire adeguatamente con la giusta velocità. Presidente, è una situazione difficile comunque questa dell'ospedale di Chieti, dicevano i tecnici non riguarda solo i due padiglioni ma più in generale tutto l'ospedale. Sì, perché c'è una accertata debolezza strutturale che io direi quasi da cemento impoverito e di questo noi dobbiamo occuparci sapendo che anche il fattore tempo è fondamentale. La scelta dello strumento amministrativo la faremo assumendo ulteriori elementi, confrontandoci anche con le agenzie nazionali di investimento, penso ad ENAIL, penso alla lettura migliore possibile dello sblocca Italia ma penso anche allo strumento del project financing. Quello che è certo è che più uno lo deve fare, la ASL di Chieti e la regione Abruzzo. La situazione ahimè è nota nel senso che si trascina ormai da qualche anno a seguito di una serie di verifiche che sono state fatte dalla protezione civile, dalla regione e anche da noi, da cui sono emerse appunto come ben diceva diverse criticità dal punto di vista sismico soprattutto e in parte anche statico su alcuni corpi di fabbrica dell'ospedale. Tutto questo intanto per tranquillizzare la popolazione non vuol dire che l'ospedale viene giù, semplicemente diciamo occorre garantire i margini di sicurezza che una struttura ospedaliera deve assolutamente poter avere e proprio da questo punto di vista quindi occorre intervenire per migliorare questi standard di sicurezza. Purtroppo gli interventi, date le dimensioni della struttura, sono interventi molto costosi e anche difficili da un punto di vista tecnico.